Il prossimo brano è stato composto nel 1918 dall'Harry Shields con Harry Lagas della Original Diximand Giard Band. Si tratta di una fietra miliare del genere Diximand con forti legami con la tradizione della marcia. La filarmonica di Antignano eseguirà Clary Mandelay, dirige Silvio Franchino. La filarmonica di Antignano 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.